Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Nel video di oggi torniamo a parlare di Python, quindi di programmazione. Continuiamo il nostro percorso in questo mondo. Nel video precedente di questo stesso argomento abbiamo parlato di variabili, o meglio, abbiamo quindi assegnato un valore a dei nomi, a delle parole, che ci servono per memorizzare delle informazioni, per memorizzare dei dati. Oggi ci occupiamo di questi dati, vogliamo capire che tipo di informazioni abbiamo a disposizione come programmatori e quindi che cosa possiamo fare e come dobbiamo farlo per manipolare queste informazioni. I dati si dividono in tre tipi. Allora, questa schermata che io ho aperto non è Python, ma è il mio blocco note, quello dove segniamo un po' di appunti per tenerci a mente le cose. Allora, qui ci scriviamo tipo di dati e sono tre. Allora, uno sono i dati numerici, numerici che possono essere di due tipi, che sono numeri in definitiva, i numeri che possono essere numeri interi, tipo il 5, oppure i numeri con la virgola. 5.2, per esempio. Abbiamo detto che Python utilizza il punto per fare i decimali, perché utilizziamo il simbolo americano. Quindi, 1. Abbiamo a disposizione dati numerici. 2. I dati possono essere i caratteri. Sono caratteri. Quindi, un dato di tipo carattere. Cos'è un carattere? Un carattere, in definitiva, è un simbolo. Quindi, che so, la Q è un carattere. I due punti sono un carattere, perché anche questi sono un simbolo. Quindi, non solo le lettere dell'alfabeto, grandi o minuscole, ma anche i segni di punteggiatura. La chiocciola della posta elettronica, il cancelletto, sono tutti simboli, al pari delle lettere. Ma è un simbolo, e quindi è un dato carattere, anche il numero. Cioè, anche il numero 6, in definitiva, è un tasto, è un segno che io posso utilizzare nel computer. Quindi, questi sono dati caratteri. Poi vedremo come il 6 viene utilizzato come carattere, anziché come numero. Il terzo tipo di dati è quello che utilizzeremo maggiormente oggi, e sono le stringhe. La stringa è un insieme di simboli raccolti, racchiusi tra virgolette. Cioè, se io scrivo virgolette GFT678, chiuse virgolette, questa è una stringa. Quindi, questa è un tipo di dato diverso dagli altri due. Quindi, qualsiasi cosa ci sia all'interno delle virgolette, quello è una stringa. Facciamo un altro esempio. Vado a capo per facilità di utilizzo. Allora, virgolette. Se io scrivo in questo modo tutti caratteri strani, chiuse virgolette, questa è comunque una stringa, perché al computer non interessa quali sono i simboli all'interno delle virgolette, per lui sono tutte stringhe. Proviamo ancora, vado a capo nuovamente. Vado circa più o meno in colonna. Aperte le virgolette. E scrivo, ciao, come stai? Punto di domanda. Chiuse le virgolette. Questa è un'altra stringa. Una frase più comprensibile, se vogliamo, ma di fatto è una stringa. Un insieme di caratteri o simboli racchiusi tra virgolette. In questo caso mi interessa puntualizzare che anche lo spazio, cioè questo punto e questo punto in cui io ho separato una parola l'una dall'altra, ho premuto il tasto per fare lo spazio, anche lo spazio è una parte della stringa. Mentre invece non sono mai parte della stringa le virgolette. Quindi è una stringa tutto ciò che sta all'interno delle virgolette. Per cui io posso scrivere tutto quello che ne ho voglia all'interno delle virgolette e quella sarà una stringa. Una stringa, però, può essere definita anche in un'altra maniera. Noi abbiamo parlato di virgolette. In realtà ci sono tre modi per definire una stringa, che è questo. Allora, uno, quello di racchiuderlo tra virgolette. Un altro modo può essere quello di racchiuderlo tra gli apostrofi. Quindi questa volta io ho fatto l'apostrofo, scrivo ciao, ciao, apostrofo nuovamente, il simbolo deve essere sempre quello. Questa è un'altra stringa, perché è racchiusa dagli apostrofi. Quindi anche in questo caso per Python questa è una stringa. Ed è anche un'altra stringa questa, tripla virgoletta, per cui virgolette, virgolette, virgolette. Nuovamente ciao, virgolette, 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 anche questa è una stringa. Per cui per far sì che Python consideri una stringa, quindi consideri un tipo di dato come stringa e quindi la utilizzi in una certa maniera che adesso andremo a vedere, devono esserci le virgolette, che è il metodo più classico, più usato. Almeno io personalmente mi trovo bene a usare le virgolette per definire, diciamo, una stringa. I due apostrofi, che è comunque un buon metodo per definire una stringa. O le triple virgolette. Quello invece non mi ricordo di averlo mai usato, perché mi sembra di impiegare di più a fare le triple virgolette, ma se l'hanno considerato è perché ci saranno situazioni in cui serve questa funzione qua. La doppia virgoletta invece non funziona. Bene, ora voglio provare a mettere in pratica quello che ci siamo detti. Riduco il mio blocco note e apro Python per fare delle prove. Voglio provare a capire questa nuova cosa delle stringhe. E definisco delle variabili. Quindi la variabile A è uguale a aperte virgolette, ciao, chiuse virgolette, premo invio, tutto ok. La variabile B è uguale a apostrofo, ciao, apostrofo, premo invio, è andato tutto bene, non è successo niente. La variabile C è uguale a triple virgolette, una, due, tre, ciao, triple virgolette, uno, due, tre, perfetto. E quindi qui tutto da programma. Voglio provare a questo punto con le doppie virgolette, perché con una sì e con tre sì e con due no. Proviamo D uguale, una, due, quindi doppia virgoletta, ciao, doppia virgoletta, invio e Python mi segnala errore. Per cui effettivamente è vero quello che ci siamo detti fino adesso, non stiamo ad interrogarci sul perché di questa cosa. È stato deciso così, per convenzione. Chi ha creato il linguaggio di programmazione ha impostato questa sintassi, quindi queste regole, e noi dobbiamo attenerci alle regole in questione. Benissimo. A questo punto mi interessa vedere cosa succede se io utilizzo il comando print per scrivere delle variabili, per esempio, o per fare qualcosa. Nel video precedente avevamo cominciato a parlare del print, avevamo detto che print, scritto così, tutto in minuscolo, aperta parentesi, e dei dati, per cui se gli dico a, che è una variabile, chiusa parentesi, premo invio, ecco che lui mi restituisce, mi scrive, mi stampa sullo schermo il contenuto della variabile, che in questo caso è ciao. Bene, proviamo a fare una variabili, se io scrivo invece print, aperta parentesi, 5 più 2, chiusa parentesi, premo invio, il computer mi stampa, perché questa volta ho detto a print non di stampare una variabile, ma semplicemente gli ho fornito dei dati, quindi print ha scritto la somma di quei due dati, perché ha usato dei dati numerici. Se invece io scrivo print, aperta parentesi, aperte virgolette, 5 più 2, chiuse virgolette, chiuse parentesi, quindi ho scritto gli stessi dati di prima, ma racchiusi tra virgolette, premo invio, lui mi scrive 5 più 2, non mi fa il conto, perché avendo racchiuso tra virgolette i miei dati, li ho trasformati non più in dati numerici, ma in una stringa, per cui le stringhe, come dicevamo poco fa, sono tutto ciò che è contenuto dalle virgolette, quindi spazi, simboli, in questo caso il simbolo matematico, e il computer scrive tutto ciò che è contenuto dalle virgolette, quindi scrive o utilizza, perché in questo caso adesso scrive, ma o utilizza, la stringa così come io l'ho impostata, per cui potrei anche fare una cosa di questo genere, posso fare print, aperta parentesi, aperte virgolette, ciao come stai, punto di domanda, chiuse virgolette, chiusa parentesi, premo invio, e ho detto a python di scrivere una stringa, e lui mi ha scritto la stringa, ciao come stai, così come io sono andato a crearla. Proviamo a fare una cosa diversa, proviamo a lavorare con delle stringhe, con le variabili e quant'altro, rimaniamo quindi, più che con le variabili in questo momento, lavoriamo con questi dati. Allora, se io vado a scrivere print, aperta parentesi, virgolette, 5 più più 2 uguale, virgolette, parentesi, quindi, premo invio, lui mi scrive, abbiamo detto, ciò che è contenuto dalle virgolette, quindi la stringa completa, e quindi mi scrive solo 5 più 2. Se invece provo a scrivere una cosa di questo genere, print, aperta parentesi, virgolette, 5 più 2 uguale, chiuso virgolette, quindi chiusa quella stringa lì, virgola, 5 più 2, chiusa parentesi, quindi la seconda parte del mio comando non è una stringa, perché non è racchiuso, tra virgolette, per cui è un dato numerico, premo invio, il computer mi va a scrivere 5 più 2 uguale a 7, perché la seconda cosa che io gli ho detto erano dei dati numerici e lui li ha utilizzati come tali, per cui la prima parte l'ha dovuta scrivere così come io gliel'ho detta, perché era una stringa, non sono più numeri per lui, la virgola mi serve per saldare due tipi di dati, per poter scrivere nella stessa riga più tipi di dati, la virgola è come dire E, quando noi scriviamo, che scriviamo, facciamo un elenco, scriviamo con la virgola, in questo caso è come dire E, e mi ha messo il 7, direi anche che in questo caso la virgola mi ha fatto uno spazio, perché tra l'uguale e il 7 c'è uno spazio, mentre invece con versioni precedenti di Python lo spazio non c'era e il 7 sarebbe stato scritto direttamente unito alla parola precedente, quindi alla stringa, quindi sarebbe stato tutto stretto. Proviamo a fare un altro discorso, allora vediamo un po', io voglio definire una variabile che chiamo somma uguale 5 più 2, teniamo sempre gli stessi dati, quindi la variabile somma, ho premuto invio, la variabile somma è stata creata e le è stato assegnato il valore 5 più 2. Se di nuovo io vado a scrivere print, aperta parentesi, aperte virgolette, 5 più 2 uguale, chiuse virgolette, virgola, somma, quindi stavolta chiamo la variabile, chiusa parentesi, premo invio ed ecco che mi dice 5 più 2 uguale a 7. Mi sono accorto adesso che scrivere virgolette 5 più 2 uguale virgolette mi scoccia un po', mi dà un po' fastidio, ci impiego tanto, se è una cosa che devo scrivere ogni due minuti potrei assegnare quella stringa a una variabile, per cui potrei chiamarla operazione operazione uguale virgolette 5 più 2 uguale virgolette e premo invio. Quindi ho assegnato alla variabile operazione la stringa 5 più 2 uguale, per cui se ora vado a richiamarla, vado a fare print, aperta parentesi, operazione, virgola, somma, chiusa parentesi. Quindi in questo caso ho chiamato le due variabili, premo invio ed ecco che il computer mi scrive 5 più 2 uguale a 7. Benissimo. Ti voglio fare un altro esempio di ciò che possiamo fare con le stringhe o con i dati in generali. Mettiamo questa situazione qua. Facciamo finta di avere bisogno di scrivere una specie di conversazione e vogliamo scrivere questo comando. Allora, print, aperta parentesi, aperta virgolette, ha, 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 così, come se fosse una risata. Chiuse virgolette, chiusa parentesi, premo invio ed ecco che lui mi ha scritto ha, 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 come una stringa. Benissimo. Io potrei non avere voglia di scrivere se devo fare più volte questo ha, 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 ma potrei allora utilizzare uno stratagemma di questo genere. Allora, ingrandisco il mio schermo, ecco, per vederlo meglio. Potrei fare una cosa di questo genere. Potrei definire una variabile che chiamo risata, uguale, aperte virgolette, ha, ha, così, chiuse virgolette. Per cui, premo invio, la variabile risata contiene la parola ha. Se io scrivo print, aperta parentesi, risata, chiusa parentesi, invio, lui mi scrive ha. Ma se io vado a scrivere print, aperta parentesi, risata, per cento, per cento in senso come ripetuta cento volte, chiusa parentesi, premo invio ed ecco qua che il mio computer mi va a scrivere una risata lunga. In questo caso, però, mi viene fuori un ha, 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 tutto unito. Se io volessi che fossero tutti separati, dovrei definire la variabile risata diversamente, quindi dovrei cambiarla, variarla in questo modo. Risata, uguale, virgolette, spazio, quindi virgolette ha, spazio, chiuse virgolette. Quindi in questo modo, lo spazio che deve esserci dopo la parola, lo definisco io già direttamente nella stringa. Premo invio e nuovamente, se adesso vado a scrivere print, aperta parentesi, risata, per dieci, facciamo questa volta, chiusa parentesi, premo invio ed ecco che mi fa, ha, 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 dieci volte. E quindi questa è un'operazione che io ho potuto fare con i dati. Una cosa che invece, ad esempio, non posso fare è questa. Scrivo print, aperta parentesi, aperte virgolette, ciao, chiuse virgolette, quindi una stringa, diviso 12, chiusa parentesi, diviso un numero, premo invio e Python mi segnala errore. Non posso fare, non posso mescolare, ma è più giusto dire, non posso fare operazioni matematiche tra tipi di dati diversi, cioè ciao non è un numero, è una stringa, quindi è impossibile dividerlo per 12. Allo stesso modo, se io scrivo questa cosa, print, aperta parentesi, aperte virgolette, dieci più due, chiuse virgolette, meno cinque, chiusa parentesi, anche questa volta il dieci più due, anche se sono dei numeri, sono ora chiusi tra virgolette, quindi per il computer adesso è una stringa, è una parola, se io premo invio, lui non può farla, perché sono tipi di dati diversi. Se voglio compiere operazioni con i dati, devono essere dello stesso tipo, in pratica. Bene, direi che per il video di oggi è tutto, ti ringrazio della visione, metti un mi piace se ti è piaciuto, commentalo, condividilo, e soprattutto se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Ciao e buona serata.